E' terminata la finale dei Pulcini 2009, ha vinto i ragazzi di Mister Gabriele di Felice. Adesso prepariamo quattro golli contro il Castelfrentano, ho un amichevole, è la terza partita della femminile. Allora, ci scusiamo, ragazzi vengono a fare l'ola sotto, ecco i ragazzi della Virtus Castelfrentano che hanno vinto la finale. E anche i ragazzi del Castelfrentano, facciamo una bella forza sotto la tribuna. Facciamo un'altra partita, il progetto Lange e la Virtus Castelfrentano. Eh, bravo! Ecco! Gabriele, Gabriele, insieme al Lanciano. Chiami tutti. Lanciano, dai, su! Forza, l'ola, su! Bravo! Ecco, tutti contenti, sono andati in finale, hanno vinto la finale contro il Lanciano 1920. Eh, sono... ci sono rimasti male i ragazzini, eh, è ovvio, ognuno vuole vincere. Bravi, bravi ragazzi, complimenti! bravi ragazzi stiamo aspettando bravi ragazzi non è successo nulla c'è un applauso ragazzi e adesso dai una bella forza l'ora e raccogliere gli applausi bravi ragazzi bravi ragazzi potete entrare in campo terza partita vostra bravi ragazzi amichevole quattro golli virtus che ha serventato chiediamo pazienza ai genitori perché la quattro golli è venuta per onorare il memoria e Massimo Scalicci visto che non si sono qualificati a nessuna delle finali si sono presentati di spontanea volontà qui al campo sportivo chiedendo di giocare 12 minuti per Massimo Scalicci e quindi meritano un grosso applauso so che è tardi li tappiamo ma capite anche noi eh? dottoressa via dottoressa bisognete dal cancello signori genitori dovete togliervi dal cancello di servizio per piacere vi togliete dal cancello? ci sono i medici? 12 minuti ricora ricora dai prepara subito dai chi la foto aspetta un secondo arriva davanti